Domenica alle 13 e alle 18.55, settima puntata di Campagna Amiche all'appuntamento della Col di Retti di Belluno che ci permette di conoscere gli operatori, i prodotti del comparto agricolo bellunese, le eccellenze del territorio. Credo che sia importante sottolineare quello che è il mondo agricolo del nostro territorio, valorizzarlo e mettere anche a risalto di tutti quelle che sono le eccellenze enogastronomiche e dell'agricoltura che noi otteniamo. Facciamo il punto su Lattebusche. Le vendite di Lattebusche compatibilmente con quelli che sono i trend di mercato sono in crescita. Quali i prodotti di punta? Tutta la gamma Lattebusche è realizzata in maniera veramente eccellente con la massima attenzione. Il segreto è il latte dei nostri soci allevatori. Mi piace ricordare gli ultimi prodotti, le novità, quindi il latte bio di montagna e le specialità realizzate nello stabilimento di Padola. È sempre importante anche la presenza del formaggio Piavedop, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, da molti premi e in generale comunque anche il valore del penna nera, formaggio pasta pressata, è stato riconosciuto in maniera importante dal mercato. E torniamo a Campagna Amica di Coldiretti. L'appuntamento è rinnovato dunque a domenica alle 13, alle 18.55, con repliche lunedì alle 21.05, martedì alle 18, venerdì alle 14 e sabato alle 11.